Il mio tentativo sarà quello di parlare di un aspetto della creatività, che non sarà quello dell'artista, ma è quello, forse più vicino allo scienziato e al tecnologo, che è quello di fare le stesse cose meglio o di fare cose che non si fanno ancora. E questo la chiamiamo innovazione. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutto quel lavoro che viene fatto in tutto il mondo per creare qualcosa di meglio da vivere, da fare e da ottenere. Vedete questi due grafici? A sinistra ci sta quant'è la produzione mondiale di articoli tecnici e scientifici. Se sommate i numeri, viene 2 milioni all'anno. Quello di destra dice quanto si scambiano di questi articoli. è un vero e proprio mercato, è un vero e proprio flusso che determina lo sviluppo dell'innovazione. Siete in una zona industriale, pensate cosa vuol dire questo, in tutto il mondo. La prima cosa da definire è che cos'è un flusso di innovazione. Normalmente, fino a qualche tempo fa, c'era il mercato dell'acciaio, le acciaierie e tutto si sviluppava partendo dalle materie base, dalla metallurgia, arrivava fino alla produzione degli impianti di acciaio e questo era per tutti i vari settori di mercato, chiamiamoli così. E si parlavano pochissimo fra di loro. Questo è l'esempio, io lavoro nello spazio, facciamo satelliti e qualcos'altro anche, e questa era la filiera dello spazio, cioè si fanno servizi di telecomunicazione, di osservazione della terra, di posizionamento, cioè il navigatore, e si ottiene questo attraverso varie questioni. Poi sono arrivate le nuove tecnologie, cioè l'elettronica, l'informatica, le biotecnologie, e è iniziato a succedere che, per esempio, quelli che facevano l'informatica potevano dire a quelli che facevano elettromeccanica che potevano a loro volta usare i loro studi e i loro metodi per poter scuotere, cioè agitare il crogiolo dove si fa l'acciaio, cioè dove si mette dentro carbone e ferro, e ottenere a parità di materiali, a parità di tutto il resto, un acciaio migliore. Quindi sono tecnologie che complementano e si creano i concetti di multidisciplinarità e interdisciplinarità, cioè il fatto che servono più discipline per trattare in maniera compiuta una certa questione. E questo è quello che stiamo vivendo adesso. Adesso abbiamo tecnologie innovative che sviluppano altre tecnologie innovative che non producono ancora un prodotto finale, cioè conoscenza che produce altra conoscenza che poi farà arrivare a un prodotto finale. Quindi abbiamo una serie di prodotti intermedi che si scambiano. Ma facciamo un esempio concreto. Le nanotecnologie, ne avete sicuramente sentito parlare. Bene, in questo grafo vedete che le nanotecnologie le posso usare per tantissime cose, dal tessile all'agricoltura, alla medicina, all'elettronica. Ma questo grafo ci dice anche un'altra cosa. Per esempio, se io voglio sviluppare le applicazioni per i denti, le cure dentarie, le protesi dentarie, io ho un percorso per arrivarci, ma ne ho anche un altro che mi porta sempre allo stesso risultato, però passando attraverso step diversi. Qual è la differenza tra questi percorsi? E' che magari uno è più veloce, un altro mi dà dei risultati migliori, un altro costa di meno. E non è a priori uno meglio dell'altro. A seconda di quello che mi serve, sceglierò il percorso giusto. Quindi, vedete, si complica la faccenda. Quanto si complica? A questo punto, permettetemi una piccola variante storica. Se io posso avere vari percorsi, cioè da una stessa tecnologia posso arrivare a vari punti, ed è così ampio lo spazio di cose che posso fare, avete visto la tecnologia e quella nuvola di cose intorno, diventa importante su cosa focalizzo le attività, gli sforzi e quant'altro. In particolare, ci sono quattro tecnologie che negli ultimi anni sono veramente di impatto, che sono le biotecnologie, le nanotecnologie, l'informatica in quel senso più specifico e le scienze cognitive, l'intelligenza artificiale, cose di questo genere. E si è creato un concetto nuovo di tecnologie convergenti. Cioè, noi possiamo avere tutte queste tecnologie che per loro natura si mischiano per creare cose nuove che non sono quelle di origine, ma allora diventa una cosa fondamentale. Per cosa le finalizzo? Queste tecnologie che chiamiamo tecnologie convergenti, cioè questi sviluppi tecnologici che si muovono assieme come nel tempo, facessero un cammino molto simile, hanno delle finalizzazioni sociali, cioè la cosa che sta caratterizzando questi anni nell'innovazione, nei flussi di innovazione, è che si sceglie qual è l'implicazione. Quindi c'è una scelta che c'è alla base di quello che sviluppiamo. Questo della scelta, tenetelo presente, perché non è così banale. Perché? Perché queste tecnologie convergenti sono per esempio quelle che ci supportano nella vita quotidiana. Se volete, internet in quanto tale lui stesso è una tecnologia convergente. C'è sicuramente intelligenza artificiale per il data mining, c'è sistemi di telecomunica e quant'altro. Questo tipo di tecnologie, proprio perché vanno a incidere sul sociale, hanno una caratteristica di base, che è quella che non si vedono nella vita. Cioè meglio funzionano, meno ce ne accorgiamo. Perché ci permettono di vivere in quello che alcuni chiamano ambient computing, cioè essere sempre e comunque connessi. I new millennian, i ragazzi nati dopo il 2000, naturalmente sono così. Quelli over 50 ci provano, ma va così così e così andiamo avanti. Allora diventa critico definire qual è l'obiettivo comune. Io ho preso le cinque priorità della Commissione europea negli ultimi sei anni. La prima è l'invecchiamento attivo e salubre. La porta del naso importante è che l'obiettivo è la base. Cioè il fine è la base su cui vado a sviluppare tutti gli sviluppi. Lo stesso ho per la gestione dell'acqua. Lo stesso ho per quello che potremmo chiamare sostenibilità urbana e della mobilità. Lo stesso ho sulla quella che adesso si chiama economia circolare, cioè il fatto di riuscire a produrre materie prime riciclando quelle che ho già usato. Lo stesso ce l'ho sull'agricoltura. Da questo punto di vista, permettetemi di fare un esempio di quello che vado a dire. Lo spazio, qui nell'agricoltura, dice ma che c'entra? Invece tramite lo spazio si può sviluppare, assieme ad altre tecnologie, quindi tecnologie che convergono su un obiettivo, per esempio l'agricoltura di precisione. Cosa vuol dire l'agricoltura di precisione? Che io, siccome riesco ad avere una ideologia molto buona, cioè sapere bene le cose, bene anche nello spazio, cioè in quel chilometro quadrato, in quella contrada nevica e in quella invece della grandina, posso gestire meglio le coltivazioni, cioè dare il concime quando serve, proteggere le coltivazioni se stanno arrivando un momento estremo e quant'altro. Quanto vale questo? Gli agricoltori della Napa Valle, quelli che fanno il vino, sono stati i primi a andare in questa direzione e il loro risparmio è stato del 70% sulla coltivazione. Ok? Vi rendete conto quanto vale? Tant'è che sono fatti i satelliti per conto loro. Allora, qual è il flusso che c'è dietro, in questo caso, sulla parte dello spazio? C'è una parte di ricerca che confluisce nella parte, che dà supporto alla parte spaziale, che si declina, per esempio, sulla parte di invecchiamento attivo, tutte le attività fatte per gli astronauti, che quando vanno su non è che si può pensare che hanno l'appendicite e li devi curare, devi tentare di prevenire l'anti-aging. Questo crea opportunità per cosa? Migliorare la vita, qui in questo caso riporto la frase della Commissione, per i cittadini dell'Unione Europea. Da questo punto in poi inizio alcune riflessioni che vorrei condividere con voi sulle conseguenze di tutto quello che ho detto adesso. La prima cosa è che tutta questa massa di informazioni è tanta e l'innovazione può nascere in qualunque posto. Parlavamo di due milioni di articoli solo per articoli scientifici e tecnici, quindi niente medicina, niente psicologia, niente sociologia, tutte queste cose. E quindi c'è un primo problema, troppa informazione diventa rumore, non riesco più a selezionare quello che mi serve. Moltissimi di voi avranno visto che su internet ogni tanto fai le cose e ti capita sempre quello che non volevi subito. Google ti dà sempre la solita risposta mentre tu ne cercavi un'altra e così via. Questa si chiama entropia, cioè energia, in questo caso informazione, non più utilizzabile anche se disponibile. Questa cosa qui non è banale. Pensate a un'azienda, se non è attenta all'innovazione, arriva un concorrente che fa una cosa diversa da lei e vende il suo stesso prodotto a un prezzo minore oppure vende un prodotto nettamente maggiore e sta fuori dal mercato. Quindi avere poca informazione è pericolosissimo. Se ne ho tanta, non riesco più a star dietro. Mi pare che fosse The Goal che diceva che ci sono vari tre modi per rovinarsi, le donne, il gioco, ma il migliore è la ricerca scientifica. E quindi il caos di tante informazioni è pericoloso. E quindi devi giocare l'innovazione stando in quella zona, in quella cresta, in quell'orlo del caos che è fondamentale. Ma come viene percepito dalle persone questa cosa qui? Una prima percezione è quella, per esempio, di pensare che quello che sta avvenendo toglie lavoro. Le aziende licenziano perché automatizzano, quindi sto perdendo lavoro. Ma questo non è il problema più grosso. Il problema più grosso sociale. Cioè la percezione è più brutta. E quando la gente dice ma cavolo, se questa cosa qui abbiamo tutto per poterlo risolvere. Pensate a certe situazioni ospedaliere. Cioè, fatemi fare l'esempio della Calabria. Cavolo, perché lì non si deve avere una buona sanità? C'è tutto. E questa mancata promessa poi porta a un secondo aspetto, che è quella che io chiamo fiducia pigra. Cioè, guardate che non è vero che le tecnologie da sole risolvono i vostri problemi, risolvono i nostri problemi. Siccome alla base c'è una scelta su cui finalizzo le mie attività, su cui finalizzo le mie ricerche, è l'uomo che sempre decide. Quindi i problemi non sono nelle tecnologie, ma come le uso. E quindi non è vero che sono altri che decidono per voi. Non è vero che l'evoluzione è necessariamente questa. È nella capacità di tutti di capire e di saper giudicare e saper indicare. Questo lo potremmo dire con una frase molto semplice. Più grosso è la trasformazione, più grosso è il timore. Per riprendere quello che diceva prima il nostro amico, la quantità di persone ordinarie che fanno cose ordinarie è molto maggiore di quelle che sono ordinarie e fanno cose straordinarie. E normalmente le ultime talvolta creano problemi alle prime. Questa cosa è sempre vera. Allora, qual è il punto? Che noi abbiamo a disposizione un enorme potenziale. Che questo potenziale è un flusso che attraverso tutto il mondo. Il punto di base è come verranno gestite queste informazioni. Se volete, è un grande potere che viene messo a noi a disposizione. Ma, come diceva, come vedete, la mia cultura è una cultura fumettistica. ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Questo che sta avvenendo, i flussi tecnologici e di conoscenza che stanno avvenendo, che stanno cambiando sicuramente il mondo del lavoro, che stanno cambiando la vita quotidiana, sono loro a nostra disposizione. Siamo noi che dobbiamo saperli governare e saperli gestire. E da questo punto di vista, permettetemi l'ultima cosa, l'educazione, la formazione è fondamentale. È il mito di cercare subito un guadagno. Fatemi fare l'esempio di un figlio di un mio amico che è andato a Londra per studiare e si è messo a fare il cameriere. Un ottimo cameriere, brevissimo cameriere, però non ha studiato, ha smesso di studiare. Oggi, per governare tutte queste cose qui, è necessario studiare, per cui o uno lo fa da solo o uno lo fa seguendo qualcosa. Ma alternative a questo non ve ne sono. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.